Le diverse commissioni hanno deciso di avviare negoziati interistituzionali prima della prima lettura del Consiglio a norma dell'articolo 72 del Regolamento. Tutte le 43 posizioni adottate dal Parlamento in prima lettura che costituiscono il mandato per tali negoziati sono disponibili nella pagina web della plenaria, i titoli saranno pubblicati nel processo verbale. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!